Ci siamo? Aspetto il via dalla regia. Ci siamo. Bene, allora il titolo dello studio di questa sera, se qualcuno lo vuole sapere, è Rallegra il cuore di Dio. È possibile rallegrare il cuore di Dio? E come? Noi vogliamo sempre che Dio rallegra il nostro cuore, ed è vero, lo fa. Ma anche noi possiamo rallegrare il cuore di Dio. E passiamo subito direttamente alla parola. Bravissimo Fabio. Piero, mi è andato dalla testa, poi ho visto più giù. Luca 15 dice questo, chi la conosce è la parabola delle dramme? È un dramma, se non la conoscete. Eppure, qual è la donna che se ha dieci dramme e ne perde una? Ripeti con me, una. Non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura, fermati qui, finché non la ritrova? Gesù pone questa domanda, che qual è quella donna così insensata, da non preoccuparsi, si trova dieci dramme, ok? Da non preoccuparsi delle nuove che gli sono rimaste in tasca, che va alla ricerca di quell'unica dramma persa. Ora, la donna può essere qualsiasi persona. Ognuno di noi può essere questa donna. Ma le dramme chi sono? A chi sta parlando? A chi si sta riferendo Gesù a queste dramme? Le dramme era la moneta antica, no? Quindi qualcosa di valore. A chi si sta riferendo? Dì alla persona accanto a te, tu vali. Tu hai un valore inestimabile. Non siete felici di questa bella notizia? Noi valiamo tantissimo. Ora, qualcuno si può porre anche la domanda. Quanto valgo? Chi se la pone questa domanda? Quanto valgo? Dì alla persona che è accanto a te, tu vali. Il prezzo del sangue di Cristo versato sulla croce. Amen? Vali tantissimo? E queste dramme siamo proprio noi. Eravamo noi. Le dramme perse sono quelle persone che si ravvedono. Si ravvedono, riconoscono che c'è una separazione tra Dio. E le nuove dramme che rimangono nella tasca sono quelle persone orgogliose che dicono non abbiamo bisogno di ravvedimento. Quindi, quella donna dà più importanza a quella dramma che dice accipicchia, ho bisogno di ravvedermi. E cosa fa questa donna? Usa un lume. Allora, vi faccio una piccola precisazione storica. A quei tempi le case non erano come le nostre. A quei tempi le case erano una stanza. In una stanza si viveva, in una stanza si faceva tutto, e in una stanza senza le finestre. Quindi ovviamente se tu perdi un qualcosa e non hai finestre, hai bisogno di luce. Domanda. Questo geniale di Gesù, che mi fa sta parabola geniale. Il mondo fuori che vive nelle tenebre è senza luce. È come una stanza senza una luce. Ora, la domanda che noi ci dobbiamo porre è come dobbiamo illuminare questo mondo? Con un lume. E qual è questo lume? Sicuramente non saranno i lumi della nostra ragione. Perché ogni volta che noi usiamo i lumi della nostra ragione per evangelizzare, facciamo danno. Questo lume è la parola di Dio. Questa luce è la parola di Dio. E poi la cosa meravigliosa che dice una volta che accende questo lume spazza la casa finché non la ritrova. Allora, se la casa era in una stanza, questo spazzare di questa donna è un spazzare con cura. Cioè, della serie io non smetto di spazzare finché non la trovo. Che cosa è questo? Che cosa è questo? Che atteggiamento è questo da parte di questa donna? Un atteggiamento d'amore. guardate noi non immaginiamo ma chissà quante volte Gesù ha applicato questa cosa nella nostra vita che ha tante volte spazzato ha tante volte mandato delle persone a parlarci per recuperare quella dramma che eravamo noi persa. Da calcolare che prima di questa parabola Gesù aveva raccontato ai suoi la parabola della pecora smarrita delle 99 pecore con l'unica differenza che la pecora smarrita è un essere vivente e può decidere di smarrirsi ma la mamma non è qualcosa vivente e Gesù la cerca la ritrova cioè io voglio trovare questa dramma che si è smarrita ma qual è la differenza che si vuole ravvedere? La dramma perduta rappresenta quella persona che è disposta a confessare la propria separazione da Dio e cosa ci separa da Dio? Muro? La donna continua a cercare con cura questa moneta finché non la ritrova finché non la ritrova io devo trovarla costi quel che costi io devo trovarla poi andiamo nel verso 9 e quando l'ha trovata cosa fa? chiama le amiche vicine dicendo rallegratevi con me perché ho trovato la dramma che avevo perduta si rallegra fa una festa la moneta la moneta perduta ha cercato il piacere a differenza delle 99 dramme che non sono mai state perse facciamo festa non per quelle che non ci sono perse per quella che è stata ritrovata straordinario Gesù fa festa nei cieli quando un peccatore si ravvede Gesù non fa festa per quelli di fuori che non sono ravveduti Gesù fa festa per ogni volta che uno da fuori rientra nel suo regno e dia alla persona accanto a te il peccatore che si umilia e confessa le proprie colpe rallegra il cuore di Dio è in questo modo che noi rallegriamo il cuore di Dio e questo è meraviglioso ogni volta che noi ci confessiamo al Signore ogni volta che diciamo Signore ho sbagliato Dio si rallegra wow quanti vogliono rallegrare Dio ogni giorno pecchiamo sempre di meno andiamo avanti lo dice così vi dico ve gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede per uno solo allora la domanda nasce spontanea ci sentiamo ci mettiamo nei panni di questa donna Chiara ha detto di sì ah ha detto guarda Chiara ha detto di sì ci mettiamo nei panni di questa donna ogni giorno sapete quante dramme ci passano davanti che stanno cercando Dio non ci credi tu sei l'esempio di quella dramma che era persa e qualcuno ti ha spazzato con la luce e ti ha detto ehi Dio ti ha ritrovato noi siamo questo esempio quindi se Dio lo ha detto con noi lo farà anche per gli altri noi siamo questo esempio sarò breve oggi giusto un paio d'ore coloro che non sentono la necessità di ravvedersi purtroppo non gli procurano gioia a Dio ci sono persone che hanno ancora come dire questo pensiero che non c'è bisogno di ravvedersi so già cosa stai pensando sciocchi vero sono sciocchi noi eravamo anche quelle persone noi eravamo anche quelle persone che tanti anni fa pensavamo che non c'era bisogno di questo ravvedimento eppure Dio ha mandato lo Spirito Santo quella donna che ha convinto i nostri cuori presentando una luce mettendo dentro di noi il desiderio di convertirci di sapere la verità di conoscere la verità se noi leggiamo il prossimo verso che si trova in Ezechiele quello che io sto dicendo è confermato dal profeta Ezechiele dice e nel capitolo 18 sì sempre come stavi prima devi andare avanti con il ok se l'Empio si allontana da tutti i peccati che commetteva se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia egli certamente vivrà non morrà che bella questa parola che straordinaria cioè qui il profeta Ezechiele sta dicendo tu puoi vivere una vita eterna è facile allontanati da quello che ti separa da papà allontanati poi vai nel verso 22 guardate cosa dice qui nessuna delle trasgressioni che ha commesse sarà più ricordata contro di lui e questo è straordinario molte persone vivono ancora con il senso di colpa molte persone pensano che abbiamo fatto un peccato grave che Dio non ce lo può perdonare è una bugia allora vogliamo ringraziare Dio per questa meravigliosa scelta che lui ha fatto ha detto tu ogni volta che mi confessi i tuoi peccati io non me ne ricordo più Dio è la persona accanto a te se tu confessi i tuoi peccati Dio non se ne ricorda più e perché tu te le ricordi perché ma perché ci facciamo male è la cosa ancora più triste che tristezza e quando a ricordare i nostri peccati sono i fratelli che vengono con quella spada e che tu hai fatto come dico il Signore è benedetto io gli ho confessato i peccati Dio non se ne ricorda più arrivi tu e qua dobbiamo dire Dio esiste ma non sei tu rilassati Dio esiste ma non sei tu rilassati perché è nella nostra natura voler prendere il posto di Dio e quindi noi diventiamo tutti come dire ufficiali giudiziari di Dio equitalia equidio e andiamo lì a sparare quando invece noi siamo portati a trovare quella dramma persa e a dire non ti preoccupare confessa i tuoi peccati a papà lui non se ne ricorderà più e tu vivrai in eterno poi il verso 23 è straordinario io provo forse piacere se muove l'empio no dice qua Dio ma secondo voi se una persona fuori muore io sono felice non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie cioè non sono felice invece quando un mio figliolo si converte e ritorna sulla via Dio si rallegra quando noi ci convertiamo a lui diventa felice che bello sapere che tu fai un qualcosa che rende felice un altro vi piace rendere felici gli altri è bellissimo ora è chiaro che noi non dobbiamo fare nulla per Dio ma è un risultato naturale del suo amore e quando noi ci convertiamo lui è felice lui è felice Dio non prova nessun piacere quando l'empio muore e ogni volta che un empio muore lui è triste ci mettiamo nei panni di questa donna è straordinario farlo andare alla ricerca di quelle persone perse Gesù dice una cosa importante perché dia alla persona che è accanto a te questa verità non è venire in chiesa che salva non è sapere le scritture a memoria che salva ma salva Gesù Cristo se lo incontri e se lo accetti perché molte persone conoscono la Bibbia a memoria e pensano di essere salvate e vedremo tante persone andare all'inferno con la Bibbia e il commentario e il dizionario biblico qua sopra sotto il braccio così io andavo in chiesa il mio popolo per riservare mancanza di conoscenza dove si andava all'inferno vogliamo leggere Giovanni è Gesù che parla sempre l'invio Piero non cambia niente anche il mio computer è lo stesso ieri oggi è in eterno dice qui Gesù che parla voi investigate le scritture perché pensate d'avere per mezzo di esse vita eterna oh 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 tu sai la scrittura a memoria no e pensi che siccome la sai a memoria pensi di essere salvato una volta un uomo senti questa Rossi mi prese una Bibbia per strada e mi disse la parola di Dio dice questa e tu mi devi dire sì amén io lo guardo in faccia gli volevo dire ma Dio non sei tu rilassati stai calmo lo so che sta scritto ma non serve saperlo la Bibbia non ci deve informare io ve lo dico sempre la Bibbia ci deve trasformare ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me nelle scritture noi conosciamo chi è Gesù chi è Gesù ma chi è per te Gesù lo devi incontrare e la cosa cambia 40 eppure nonostante che voi investigate le scritture nonostante che voi sapete chi è Gesù dice qua lui eppure da me non volete venire eppure sei testardo eppure sei come dire sei duro di cuore nonostante tu leggi le scritture nonostante tu mi stai cercando eppure tu hai un amore sfegatato per il tuo peccato preferito e preferisci quel peccato a me nonostante che tu conosci le scritture nonostante mi stai cercando se tu vieni da me perché vuoi avere vita eterna dice Gesù ma io non te la posso dare perché tu conosci la Bibbia anche i farisei conoscevano le scritture e hanno ucciso Gesù anche Paolo conosceva anche Saulo conosceva le scritture ma Dio gli ha dovuto cambiare identità e l'ha fatto diventare Paolo Paolo era un servo di Dio Saulo era uno che andava contro Dio dire alla persona accanto a te è necessario cambiare l'identità e farlo fare a papà noi quando ci mettiamo nelle mani di Dio lui ci cambia l'identità da persecutori diventiamo adoratori diventiamo testimoni avanti 41 c'è? non ce l'ha e va bene non fa niente e non c'è il 41 fino a qua manco io ce l'ho non ce l'ho nemmeno io la cassa non la voglio i tuoi meticolosi sforzi per ottenere la vita eterna falliranno sempre ho detto sempre ripeti con me sempre come si dice in portoghese sempre sembra di bitonto sempre always noi ci sforziamo perché vogliamo ottenere la vita eterna ma stiamo sbagliando perché non ci dobbiamo sforzare lui ha già compiuto ogni cosa affinché noi ottenessimo la vita eterna non ti sforzare la vera via per la salvezza ha un nome il tuo salvatore ha un nome non ti sforzare è Gesù che ti serve è Gesù che ti serve e le scritture ci guidano e ci parlano di lui la scrittura parla di Cristo ci aiuta a conoscerlo ma non basta dobbiamo incontrarlo e dobbiamo viverlo tutti sono alla ricerca della vita eterna se tu vai fuori tutti vogliono avere la vita eterna c'è chi dice che si trasforma c'è chi dice che viene come dicono quelli che vengono reincarnati in un in altri esseri viventi quello è il mio marito è in quell'albero nell'animale quella è mia suocera nella pianta se mia suocera sta nella pianta la faccio seccare non gli metto l'acqua no scherzo c'è qualcuno che ha una suocera qui ah ma la sto scherzando Marta mi raccomando che sta qua ma invece no tutti siamo alla ricerca della vita eterna ma quella vita eterna ha una sola via non gli piace quello che ho detto mica tutti la vogliono ottenere questa vita eterna ma pochi credono che quella porta è Gesù Gesù ha detto io sono la porta è una porta stretta strettissima ora hai capito perché sto andando a correre perché non ci entro non ci entro è una porta a forma di croce tu devi entrare così in quella porta se non entri così non ci puoi entrare non entri è stretta che angusta la via dice Gesù che porta la vita eterna quella porta ha un nome di Gesù Cristo se tu vuoi essere salvato e vuoi vita eterna apri quella porta cosa dice Apocalisse 3.20 io sto alla porta eh però poi Giovanni si è dimenticato sotto nelle note magari apri sta scritto nelle note sotto voi avete la Bibbia quella da studio è sotto sta scritta la nota magari apri andiamo a leggere prima testalonicisi davvero sono arrivato alla fine perché sono in obbedienza sempre lo stesso il mio computer lo stesso ieri oggi in eterno non cambia mai sono arrivato alla fine e poi vogliamo pregare devo essere obbediente mi devo disciplinare 30 minuti dopodiché il mio pastore mi mette in disciplina ok guardate un po' Paolo Silvano e Timoteo ora vediamo mettere la prova a qualche studioso Paolo chi era? Paolo chi era? era Paolo chi Paolo? Saulo e Silvano? aha aha tu lo sai? perché hai fatto la domanda al gioco e lo sai no Silvano era Sila era Sila che poi si chiamava Silvano poi c'era Timoteo il grande alunno che Paolo diciamo ha cresciuto guardate un po' Paolo Silvano e Timoteo alla chiesa di Tessalonica gli fanno una lettera guardate cosa gli scrivono e questo per noi vuole essere un monito come che significa monito? un esempio un esempio di chiesa è un esempio evangelistico quanti vogliono come dire iniziare a essere quella donna alla ricerca di quella dramma persa bisogna evangelizzare qua c'è un esempio davvero bellissimo lo leggiamo insieme parla nelle nostre preghiere qui ci sono tre leader che pregano per una chiesa intera quella di Tessalonica poi ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede perché stavano facendo una chiesa delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza non andare avanti nel nostro Signore Gesù Cristo una caratteristica importante non mollare mai non mollare mai ieri quando eravamo sulla strada per perdere i chili con Giulia Giulia mi diceva pastore ma perché noi cristiani dobbiamo cioè è normale che noi dobbiamo combattere 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 ma fino a quando dobbiamo combattere e io sono rimasto così un po' poi ho detto Signore e mo e mi ha mi ha illuminato mi ha illuminato e tu rispondi così Paolo in una lettera prima di morire ha detto così ho combattuto fino alla fine fino a che dobbiamo combattere noi ci vuole costanza per questo e ci vuole costanza dobbiamo combattere fino alla fine siamo stati dobbiamo essere fedeli fino alla fine ho combattuto il giusto combattimento perseverando fino alla fine adesso possiamo andare avanti conosciamo fratelli amati da Dio la vostra elezione infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con fermati come si evangelizza soltanto con parole voi investigate le scritture abbiamo letto prima ma non basta ma anche con potenza con lo spirito santo e con piena convinzione questa è una cosa che manca questa è una cosa che dobbiamo imparare sei convinto davvero di quello che stai dicendo che significa essere convinti quando tu sei convinto di una cosa quando questa cosa è vera per essere vera io cosa devo vedere la testimonianza di vita non possiamo predicare qualcosa che nella nostra vita non esiste non possiamo e per fare questo la potenza si manifesta proprio nello spirito santo che ha fatto in noi quindi essere convinti a tal punto che io con la mia vita te lo sto dimostrando infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene ma guardate adesso Paolo cosa dice voi siete divenuti imitatori nostri questo è un esempio di non voglio usare un termine che può passare per quello che insomma non voglio dire ma questa è una sottomissione biblica che significa sottomissione soprattutto per i nuovi sottomissione significa accordo cioè Paolo ha istruito Paolo quando ha istruito Timotio dice tutte le cose che hai visto fare da me falle perché Paolo è stato istruito poi da Pietro e Pietro è stato istruito da Gesù no e la stessa cosa accade qui qui c'è una come dire voi siete diventati imitatori cioè Paolo sta dicendo voi state facendo le cose che noi vi abbiamo fatte vedere perché hanno funzionato e se hanno funzionato con noi funzioneranno con voi avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze ma con la gioia che dà lo Spirito Santo ed è qui che c'è stata la testimonianza tanto da diventare la propria vita un esempio la più bella evangelizzazione non è fatta dalle tue parole è fatta dal tuo esempio e la cosa che noi pensiamo è non esco a evangelizzare tanto chi deve sapere questa cosa non c'è bisogno che tutto il mondo sappia che tu hai ancora una cosa da risolvere basta una persona che lo sai si chiama Satana e tu mentre stai evangelizzando quella persona lui si fa la sua vendetta la sua bella vendetta io mi ricordo vi faccio questa mia testimonianza negativa che poi è diventata positiva quando fumavo ancora e parlavo di Gesù e mentre parlavo di Gesù a una persona e lui mi disse è tu che fumi vieni a parlare di Dio a me tu sei servo del diavolo perché fumi e quello non manco era un credente però ha detto delle cose giuste che sono rimasti così è importante essere un esempio per tutti i credenti vabbè di Acquaviva e della Puglia non della Macedonia poi se il Signore ci manda lì ok ma andiamo ancora avanti perché mancano tre versi infatti da voi la parola del Signore che bello questo termine ha eccheggiato lo vuoi ripetere con me ha eccheggiato sapete che significa? oh ad Acquaviva c'è un gruppo di credenti di cristiani che stanno dimostrando con la loro propria vita che Gesù è vivo e c'è potenza la gente non ha bisogno di predicatori i predicatori ne stanno a balanga ce ne stanno a buttare i predicatori la gente non ha bisogno di sentire così bla 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 la gente ha bisogno di vedere testimonianze viventi ha bisogno di vedere cristiani cioè piccoli cristi che dimostrano che lui è vivo e non lo dimostri parlando del Vangelo lo dimostri con la tua vita a volte anche soffrendo a volte anche subendo oltraggi a volte essere perseguitati Gesù l'ha detto voi sarete perseguitati a causa del mio nome ok poi dice non soltanto nella Macedonia e nella Caia ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo questo è meraviglioso ma quanti vogliono questo incomincia a far eccheggiare Dio dentro di te il lavoro di Dio inizia dentro sarebbe bello che una chiesa intera possa portare questo profumo e possa andare alla ricerca di quella dramma perduta così di modo che non abbiamo più bisogno di parlarne diciamo ormai Fabio non c'è bisogno di chiudere evangelizzare basta che noi usciamo questi sentono il profumo e vengono è così la più bella evangelizzazione della storia è la più bella è la più convincente è quella che ti fa sprecare meno energie meno soldi meno tempo tu stai lì e la gente vede in te un qualcosa di speciale che non sei tu ma è Gesù che vive in te andiamo avanti in altri due versi ci sono perché essi stessi guardate che bello raccontano quale sia stata la nostra avvenuta fra voi e come vi siete e tutto là è convertire dagli idoli cioè togliere quel peccato che ci separa non conoscere un Dio a parole ma conoscere un Dio di persona cosa dice la scrittura che i veri adoratori mi adoreranno vi dico solo questo non voglio giudicare nessuno perché anch'io ho bisogno di cambiare tante cose non ce l'ho con nessuno è un mio pensiero posso sbagliare io mi perdonate se sbaglio ma quando vedo una persona che mi prende la Bibbia e incomincia a sciorinare verso Dio ha detto quella persona sta nel peccato quella persona sta nel peccato sapete perché ho fatto una mia analisi perché Gesù ha parlato così con i farisei e gli ha detto voi vedete l'esterno del piatto ma non guardate l'interno voi vedete l'esterno del bicchiere ma non guardate l'interno voi siete come sepolcri belli e bianchi di fuori ma dentro pieni di ossa di morte perché una persona che è libera non ha bisogno di esternare sta zitto fa parlare la propria vita la più bella evangelizzazione siamo noi allora sì sicuramente il messaggio della salvezza va dato non sto dicendo no è la mia valletta però andare per strada e fare sermoni Gesù non ha detto questo Gesù ha detto andate in tutto il mondo e predicate il vangelo cioè predicate il messaggio della salvezza punto convertire dagli idoli per servire il Dio vivente è vero parlavo l'altro giorno con una sorella al telefono e mi diceva pastore ma qui la mia famiglia così 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 io ho detto tranquilla benvenuta è normale benvenuta nel mondo dei dei perseguitati un errore non dobbiamo fare non stressiamo la gente con Gesù 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 e quelli ci guardano e dicono no io così come te non voglio essere tu sei malato tu sei esaltato non è questo che ha fatto Gesù quando stiamo con le persone vi posso dire una cosa Dio ci prepara ogni volta che incontriamo una persona un calcio di rigore tiralo e tiralo bene un calcio di rigore se ti metti a fare i palleggi hai perso quella persona ti chiude le porte è buono quando tu gli metti fame alle persone quando sono le persone che vengono a te a proposito Marta sto vedendo che tu servi il Signore a D'Avesta dici no ma come è sto fatto mettete fame nelle persone ma le persone come possono avere fame di Dio se non vedono un cambiamento di Dio in te perché se noi ci mettiamo a stress io conosco tante persone tanti genitori che si sono messi a stress con i figli a tambur battente e i figli hanno detto ma non ci vengo in chiesa che non voglio diventare esaurito come te non ci voglio venire fai vedere a tuo figlio a tua figlia al tuo marito a tua moglie ai tuoi parenti in silenzio che Gesù vive in te io mi ricordo una storia mio padre nemmeno la sa ma gliela dico sono andato a trovare mia zia in ospedale io di Gesù non ho parlato a mia zia però mia zia mi ha dato una cosa importante che mi ha fatto capire che Dio è vivo e che funziona e mi ha detto tuo padre da quando da quando va a quella chiesa che siamo noi quella chiesa è cambiato questo funziona tu puoi dire tutto alle persone ma non le convince anche perché tu non puoi convincere nessuno è lo spirito santo che convince ma quando una persona vede un cambiamento si convince da sola da quando va lì tuo padre è cambiato ed è questo che devono vedere in manachia se non ricordo male al capitolo 2 è scritto si deve notare la differenza tra chi serve Dio e chi non serve Dio questa è la più bella evangelizzazione Gesù ha detto di fare questa evangelizzazione primaria poi se ci sono anche eventi ok che ben venga non è mai sbagliato evangelizzare non è mai sbagliato l'ultimo verso è per aspettare dai cieli il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti cioè Gesù che libera dall'ira imminente è straordinario portare questo messaggio ora non so ma io quando ho ricevuto questo messaggio oggi pomeriggio il mio cuore ha incominciato a pulsare di più ho incominciato a sentire una certa responsabilità e dire signore fuori ci sono delle dramme le devo andare a recuperare cosa devo dire cosa devo fare mi ha detto niente esci ascolta c'è un calcio di rigore tiralo e fai gol l'ultimo verso seconda Pietro guardate il cuore di Dio il signore non ritarda l'adempimento della sua promessa dia la persona che è accanto a te tu sei figlio della promessa Dio ha promesso anche a te qualcosa a me hai capito perché sei andato in Brasile tu perché c'era una promessa perché c'era quella promessa che Dio aveva fatto e noi pensiamo chissà che cosa ma Dio sa dove quando e come come pretendono alcuni ma è paziente verso di voi non volendo che qualcuno perisca non è nel cuore di Dio la morte tant'è vero che per sconfiggere la morte Dio ha mandato suo figlio Dio non è morte Dio non è sofferenza Dio non è tutto ciò non è tutto ciò e quando una persona perisce muore senza di lui Dio si rattrista cosa vuole Dio è nel cuore di Dio che tutti giungano al ravvedimento è nel cuore di Dio che tutti giungano al ravvedimento e in quei tutti ci sei anche tu e ci sono quelle persone fuori che Dio ha messo nelle nostre mani questa generazione la possiamo la possiamo convertire nel nome di Gesù solo noi una volta che passa sto treno è difficile poi andare così no? voglio leggermi voglio leggervi una massima e poi ci mettiamo in preghiera lo ripetiamo insieme l'ubbidienza a Dio oggi cambierà il tuo futuro e il tuo destino amen? ecco perché dobbiamo obbedire a Dio e il nostro futuro cambia se siamo obbedienti amen? mettiamoci in preghiera alziamoci in piedi sono stato mezz'ora wow vogliamo metterci in preghiera e dire signore io voglio desidero essere uno strumento nelle tue mani per raggiungere quella draccia